Questo è un inizio. Ora inizia la partenza. La partenza significa che sia i genitori, sia le insegnanti, sia tutti i collaboratori dell'ambito coltorni non ci devono abbandonare, non ci devono abbandonare. Anzi, dobbiamo organizzare assieme dei progetti. Tre, quattro progetti, cinque, sei. Possiamo parlare di incontri settimanali, come si, tra persone bisognose. Ho parlato pure con padre Evole, che è presente e lo ringrazio. Come, dopo devo ringraziare, dovevo farlo prima, ma so che ormai sono entrati proprio nel territorio di Salute e dell'Armo di Carabinieri. Io almeno da quando sono sindaco, sono sempre al mio fianco, al pianto della cittadinanza e della cittadinanza, grazie Paresciano, grazie a tutta la vita. A padre Oliveri gli ho detto che anche la chiesa, tutti, possono collaborare e partecipare insieme a noi, perché casa, per la famiglia, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo essere tutti insieme, dai miei mammi, ai genitori.